Ciao da Autoriparazioni NovaCard, siamo specializzati nel GPL da più di 30 anni e siamo ufficina autorizzata a C-Stack. Oggi abbiamo appena ultimato la trasformazione su questa Ford Fiesta 2005 ST, 5 cilindri turbo, una macchina molto particolare. Iscriviti al canale e segui questo video per capire come l'abbiamo trasformata. Una macchina molto particolare, motorizzazione 5 cilindri, la stessa motorizzazione che usava la famiglia Volvo. È un 5 cilindri turbo, 166 kW, questa tipologia di motore ha emissioni Euro 4. Abbiamo montato la nostra centralina della famiglia Q-Max Plus, impianti a C-Stack. È una centralina che può gestire fino a 8 cilindri, abbiamo usato il kit da 6, ma chiaramente abbiamo collegato solo i 5 cilindri. Abbiamo un polmone maggiorato sotto la cassetta filtro, si vedono i due filtri del gas, perché abbiamo fatto due linee distinte. Una linea per 3 cilindri e l'altra linea per 2. Abbiamo montato gli iniettori singoli della famiglia Stag, il W3. Li abbiamo montati con canalizzazioni molto corte, posizionate in piedi, così per avere il minimo ingombro e il massimo raffreddamento. Questa tipologia di vettura è molto particolare anche perché abbiamo un allestimento stock. Poi sentiremo il rumore e il suo sound. Nella parte interna della vettura abbiamo montato il nostro indicatore a Cistaga LED, molto pratico, incassato, comodo tasto di commutazione, cornice colorata come la strumentazione verde e i 4 LED di livello. Piano piano i LED scenderanno e si accenderà anche la riserva. Come ho sempre spiegato, la commutazione a benzina passerà in automatico con i tre bip, in una posizione praticamente invisibile. Chiaramente dal sound capiamo subito che abbiamo una mappatura particolare su questa vettura. Anche su questa vettura, come in tutte le nostre trasformazioni, abbiamo inserito la presa di ricadica con imbutino direttamente nello sportimeno della benzina per essere protetta e invisibile. Su questa vettura chiaramente avevamo bisogno della massima capacità a livello di litri GPL per avere la massima autonomia e quindi abbiamo inserito una bombola cilindrica nel vano con la possibilità di ribaltare ancora i sedili e di avere un carico utile di quasi 50 litri. Anche su questa vettura abbiamo raggiunto il massimo risultato. Stesse prestazioni e stessa copia della macchina a benzina, utilizzando una mappatura specifica con aggiunte di benzina per preservare la prestazione e l'affidabilità del motore. Anche grazie al supporto del nostro impianto AC-STAR che ci permette di sfruttare tutte le varie tipologie di autoadattività e autocalibrazione dell'impianto. Per sapere la fattibilità della tua vettura puoi rivolgerti a me e al mio staff attraverso il nostro sito www.novacartauto.it Siamo la migliore amica della tua auto! Grazie!